Però a proposito di efficienza dice che un solo stabilimento, quello di Tiki in Polonia, produce come 5 stabilimenti italiani. Dall'altra parte i sindacati rispondono sì, è ovvio, si produce di più perché non ci sono i diritti, perché ci sono meno pause, ci sono più turni, perché gli operai non possono permettersi di perdere il lavoro perché il mercato del lavoro è ancora più disastroso del nostro, quindi non esiste lo sciopero, ad esempio Marchionne ribatte quello che si sta verificando in Italia, non è democrazia, è anarchia, perché se pochi mi bloccano tutta la filiera industriale io non posso produrre. Allora, dopo questa lunghissima premessa la domanda è, efficienza lavorativa e i diritti guadagnati in più di un secolo di lotte sindacali sono così in contrapposizione, non c'è il modo di salvarci, dovremmo veramente diventare tutti cinesi? Con un mercato globalizzato purtroppo la partita è persa già in partenza. Il mercato la fa da padrone comunque sia, il mercato aperto è quello che fa arrivare i risultati economici su quelli che hanno l'efficienza maggiore, quindi è vero che c'è un valore aggiunto per quanto riguarda la nostra socialità, la nostra copertura previdenziale, sicurativa, eccetera, ed è un secolo di lavoro, quindi da un punto di vista sociale l'Italia ha fatto molto. Peccato che questo non si coniughi in un mercato assolutamente selvaggio sotto un certo punto di vista, nel senso che quello non è controllato. Effettivamente oggi come oggi, quando una volta erano i fenomeni bellici che governavano le realtà mondiali, oggi sono i fenomeni economici. I fenomeni economici sostanzialmente indirizzano quelle che sono anche le politiche economiche degli stati, ma le politiche sociali, insomma. Quindi ti ritrovi veramente con un Moloch, con un vero grande fratello, che è quello che ti dice, ecco, oggi quello che è giusto in termini di diritto commerciale è anche morale, se vogliamo, e invece quello che non lo è ti fa espellere, è brutto da dirsi, è una sostituzione effettivamente molto piena, molto ridondante di quella che è la morale, addirittura se andiamo a fare un discorso, perché se tu stai in certi parametri, dunque il diritto commerciale lo rispetti e quindi non fallisci e quindi vai bene, oppure se cerchi di venire incontro a determinate esigenze sociali, però poi anziché far due miliardi di utili me ne fai sette di perdita e dopo domani chiudi. E quindi, giustamente, stati che fanno competizione oggi devono tirare ancora su la testa, per cui Polonia, piuttosto che tutte le economie dell'Estremo Oriente, hanno effettivamente questa necessità di venire fuori, quindi stanno veramente sgomitando, non stanno guardando quell'aspetto lì. Quale sarà il risultato finale di questa dinamica socio-economica? Sarà tutta da vedersi, certamente è un mondo che è del tutto diverso rispetto a quello che abbiamo immaginato di poter vivere noi. La Polonia fino a pochi anni fa è stato negletto, adesso è uno degli stati in maggior crescita, perché effettivamente hanno preso questo tipo di necessità, cioè il lavoro c'è per vivere, bisogna seguirlo e quindi bisogna venire in un po' quello che facevano i nostri lavoratori 50 anni fa. Quindi, direi, socialmente è un fenomeno negativo, assolutamente. Economicamente, parlandone in termini asetici, non c'è altra forma oggi per riuscire a combattere. Purtroppo neanche una parola per quanto riguarda invece, e qui mi ricollego al discorso che facevamo l'altra volta, dei bonus anche, dei super bonus dei dirigenti, neanche una parola di Marchionne sulla gerarchia, chiamiamola così, degli stipendi, nel senso che Fabio Fazio ha fatto notare che non si può scherzare quando una famiglia va avanti con uno stipendio di 1200 euro al mese, che sostanzialmente se dobbiamo parificare i nostri diritti e forse, chissà, anche gli stipendi a dei livelli polacchi, vanno a pagare ovviamente le classi più deboli. Quando, lo ricordiamo, Marchionne guadagna 430 volte un operaio base. Dicevamo che si arriva fino a mille, non addirittura in certi casi. Esatto, lui 430 e invece Valletta, ad esempio, che non mi sembrava l'ultimo arrivato nella storia della Fiat, guadagnava, mi sembra, 48 volte quello di un suo operaio. Allora, c'è da fare forse anche un mea culpa da parte di questa classe dirigenziale che chiede livelli salariali e sindacali solo per i lavoratori, però non guadagna come un dirigente polacco? Abbiamo detto l'altra volta appunto questo fatto che nelle economie moderne, nelle imprese abbiamo queste sperequazioni assolutamente pazzesche, che vanno a cento volte, quattrocento, mille addirittura. Marchionne stesso ha detto, ah no, ma l'obiettivo mio sarebbe quello di portare gli stipendi dei operai italiani a quelli dei tedeschi, che sono. Quindi automaticamente questo rapporto di 1 a 400 scenderebbe a 1 a 120, quindi già sarebbe migliorativa questa cosa. Eh beh, cazzo, è già un quarto, eh. In generale, torno a ripetere quello che si può dire in termini, diciamo, di equità. Non è tanto l'aspetto di quello che guadagnano i supermanager, perché nell'economia mondiale le sommi tutti, non è quello che cambia. È un discorso di tipo etico, perché effettivamente tu crei dei modelli di consumo, dei modelli di obiettivi a cui, diciamo, il lavoratore normale non potrà mai arrivare, ma lo vediamo proprio addirittura nei modelli di consumo spiccioli che il mondo moderno ci sta proponendo ormai da decenni, no? Consumiamo sempre più ore di scatto telefonico, consumiamo sempre più, ecco. Quindi in questo discorso qua c'è proprio una sperequazione in termini di modello morale, di rapporto di qualità di lavoro rispetto a quello che si guadagna, che effettivamente andrebbe rivisto. Per esempio, questa crisi del 2009 poteva essere un'ottima occasione per riposizionare questo rapporto, non è stato fatto. Mi sembra che assolutamente non è bastata questa volta, e se non basterà questa volta probabilmente ne arriverà una più grave ancora, così dovremo effettivamente impararla. Giustamente questo è un rapporto che non sta in piedi, per cui bene o male. Poi il mercato, alla fin fine, è quello che la vince comunque sì, è sempre un rapporto fra domanda e offerta, per cui domanda e offerta di lavoro, domanda e offerta di efficienza, domanda e offerta di grandi personaggi, di grandi manager. Questo sicuramente prima o poi sono nodi che verranno al pettine, peccato che nel frattempo chi ne pagheranno le conseguenze saranno per primi ovviamente coloro i quali vivono del proprio lavoro e fanno fatica con i 1200 euro ad arrivare a fine mese. A proposito di diritti, di welfare, quindi di ammortizzatori sociali, è uscita anche una notizia sul giornale questa settimana che dice che la cassa inderoga ci sarà anche il prossimo anno. Questa è una bella notizia, diciamo perché, ecco, partiamo da un dato, 200 mila persone hanno evitato nel 2010 il licenziamento grazie a questa cassa inderoga. Cassa inderoga che dobbiamo puntualizzare non è la cassa integrazione ordinaria. Che cos'è? Riguarda le imprese piccole, piccolissime, anche del terziario, e quindi, diciamo, è un grosso attu in più. Dicevamo prima che effettivamente il welfare italiano non consente di far sì che gli stipendi dei lavoratori siano a livello dei loro colleghi, che ne sono americani piuttosto che, perché abbiamo effettivamente una situazione di benessere sociale che è stato costruito che però ha dei costi. Cioè se lo stipendio di un lavoratore è soggetto a contribuzione sociale che serve per mantenere le pensioni dei pensionati, per venire in conto alle esigenze previdenziali e alle esigenze di salute, è chiaro che questo costo è il doppio, il triplo, insomma, in buona sensazione. In busta paga al lavoratore italiano arriva soltanto quello, escluso tutto il resto. Gli omologhi americani devono badare a loro stessi, adesso parte la riforma di Obama.